Oristano, questa mattina il sindaco e presidente della Fondazione Oristano Andrea Luzzo e l'assessore alla cultura Massimiliano Sanna hanno aperto ufficialmente l'Art Week. A Palazzo Campus Colonna la presentazione dell'iniziativa dell'assessorato comunale alla cultura alla Fondazione Oristano, che per una settimana animerà la città con iniziative dedicate all'arte e alla cultura, è stata accompagnata dalla donazione al comune di Oristano dell'opera pittorica Il Passato con cui fecero pace di Marco Pili.